Come ti chiami? A Giorgola Ah, e quanti anni hai? 58 e mezzo Eeeh, sei giovanissimo E allora, tu cosa fai qui a Sgurgola, in questo paese? Pensionato Ah, pensionato Ho capito E poi? La tua hobby? La televisione, la radio Ah sì? Eh, cinema Ah, cinema pure? Giornali Ho capito E quanti anni hai che sei qui a Sgurgola? 18 18 anni? Perché prima che facevi? Il ferroviere Ah, anche tu il ferroviere Ciao, ti ringrazio, ciao